Musica Ciao a tutte, essere una donna è tutt'altro che semplice, lo sappiamo bene, abbiamo mille cose più da fare rispetto agli uomini Quindi ho pensato di fare un beauty hacks, quindi trucchetti beauty che ci facilitano la vita E insomma spero che vi piaccia, se così lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi video che escono martedì, giovedì e sabato alle 14.30 Baci baci Se avete difficoltà a mettere l'eyeliner provate appoggiando un cartoncino di quelli che si trovano nel portafoglio, una tesserina qualsiasi L'appoggiate alla base dell'occhio, fate la codina e così non potrete sbagliare perché vi viene proprio una codina perfetta E sarà anche facile farlo uguale su entrambi gli occhi La stessa tesserina la potete usare anche per applicare il mascara in modo da non sporcarvi la palpebra o la pelle Che è fastidiosissimo quando si ha un makeup tutto perfetto, poi ci si mette il mascara e tac si sporca, io veramente odio questa cosa Però ultimamente ho scoperto un trucchetto per togliere il mascara in modo impeccabile senza rovinare il makeup Ed è il secondo trucco che voglio condividere con voi, è quello di appoggiare il cotton fioc una volta che il mascara è asciutto E praticamente proprio girarlo, in questo modo la macchietta di mascara si attacca al cotton fioc e veramente sotto l'ombretto rimane perfetto Quindi non dobbiamo tipo sfregare il cotton fioc ma proprio girarlo e vedrete che veramente funziona Poi se avete le labbra screpolate in inverno, veramente la cosa più fastidiosa che c'è Allora basta applicare una bustina di tè verde, cioè vi fate il tè verde, lo mettete in infusione e poi la bustina anziché buttarla La applicate sulle labbra per 5 minuti e vedrete che magicamente le vostre labbra diventeranno super super morbide Un'altra cosa che potete fare un po' più strong se proprio le pellicine non vi sono andate via del tutto È quella di applicare il dentifricio su tutte le labbra e sembra strano, avevo visto questo trucchetto su Instagram E mi ha incuriosito un sacco, pensavo non funzionasse Invece basta applicare appunto il dentifricio, lasciarlo proprio 10 secondi, anche perché poi brucia E poi toglierlo con un fazzoletto, insomma con un panno E vedrete che proprio le pellicine saranno completamente sparite, le labbra veramente super 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 morbide Sapete che io sono una fan dei rossetti opachi, però ne ho tantissimi che hanno un finish lucido E delle volte appunto mi piace il colore ma appunto non mi piace il finish lucido E quindi vado a mettere un po' di cipria trasparente su un pennello E lo passo sul rossetto per opacizzarlo E tra l'altro così il rossetto si fissa anche più a lungo Se non avete la cipria potete anche usare un ombretto chiaro opaco E l'effetto sarà lo stesso praticamente Invece per riportare in vita il vostro mascara preferito che magari si è seccato Potete farlo in diversi modi Uno è quello di mettere alcune gocce di soluzione per lenti a contatto nel boccettino E vedete che basta scuotere un po' poi il boccettino E subito il mascara ritornerà come nuovo Oppure se non avete la soluzione per lenti Fate un bel bicchiere di acqua calda E immergete il boccettino per qualche minuto E vedrete che anche questo farà tornare il vostro mascara in vita se si è seccato Questo trucchetto l'ho scoperto invece perché una volta ero andata dal mio ragazzo E mi ero dimenticata lo struccante E siccome non sopporto di andare a letto ancora con il trucco addosso Ho praticamente provato a mettere un po' di l'olio d'oliva su un dischetto di cotone E ho scoperto che è uno struccante formidabile E tra l'altro strucca anche il trucco waterproof Ad esempio ho provato a mettere appunto l'eyeliner sulla mano Questo è waterproof e vedete che lo strucca perfettamente A qualcuno potrebbe dar fastidio un po' l'olio d'oliva negli occhi Ad altri no Magari potete scoprire che insomma è uno struccante anche adatto a voi Trucchetto capelli Non so voi ma io quando mi faccio la coda Soprattutto quando ho i capelli super puliti Mi escono tutti i capellini davanti Se magari sono anche un po' elettrici E non lo sopporto E basta mettere un po' di lacca su un vecchio spazzolino E passarlo appunto su questi capellini Che in inglese hanno anche un nome Si chiamano baby hair E praticamente tutti questi capelli che fuoriescono Ritorneranno a posto E la vostra coda si fisserà sicuramente più a lungo e meglio Trucchetto contouring Allora per il contouring Il pennello migliore per mettere il bronzer Sarebbe quello un po' angolato a ventaglio Però se avete solo diciamo un pennello a lingua di gatto normale Magari quello per fondotinta Basta mettere una forcina o due Se non si fissa e aprite il pennello E avrete così un pennello a ventaglio Che è diciamo il migliore per fare la forma proprio sotto lo zigomo Se volete usare degli ombretti molto molto colorati E il colore volete che sia bello vivo sulla vostra pelle Fate una base sotto con una matita bianca cremosa E applicate sopra l'ombretto E vedrete che il colore così risalterà tantissimo E siamo arrivati all'ultimo trucchetto Questo me l'avete chiesto davvero in tantissime di provarlo E praticamente consiste nel coprire le occhiaie con un rossetto rosso E allora vi dico subito che questo funziona Soprattutto se avete proprio un'occhiaia scura Cioè quindi un'occhiaia scura tendente al blu Perché il rosso contrasta Perché è complementare E quindi creiamo un effetto cromatico Che cancella insomma lo scuro Però io quel giorno effettivamente avevo un po' di occhiaie di borsa E l'ho provato E devo dire che l'effetto mi è piaciuto tantissimo Praticamente basta appunto applicare il rossetto Sfumarlo bene E poi applicare il fondotinta E devo dire che effettivamente quest'area occhi Risulta molto più luminosa e meno scura Quindi vi consiglio di provarlo Se insomma avete le occhiaie E fatemi sapere come vi trovate Ecco spero che questi beauty hacks vi siano piaciuti Fatemi sapere se volete altri video di questo tipo Di questo genere con un bel pollice in su Io vi mando un super bacio E ci vediamo prestissimo con un nuovo video Ciao